Stiamo leggendo dalla Puglia, dalla classe quinta A della scuola primaria Giulio Cozzoli di Molfetta, provincia di Bari. Il libro e le bambine di solito non salgono così in alto. L'autrice è Alice Puchin, casa editrice La Nuova Frontera. Timoti non si separa mai dal suo taccuino. Vi scrive idee, sentimenti, sogni che ha fatto. Ha letto in una rivista specializzata che noi facciamo in media dai 3 ai 5 sogni nel corso delle 8 ore di sonno. Poiché Timoti non si ricorda mai più di un sogno e anche quello solo in parte, ha iniziato a far suonare la sveglia ogni 2 ore per rafferrare i 2 o 4 sogni che li sfuggono tutte le notti. Una sfida molto faticosa! Il taccuino contiene anche delle brevi lettere che Timoti scrive a se stesso per il futuro. Lettere nelle quali si mette in guardia. Ha capito che le persone cambiano col tempo e non vuole che li succeda. Ha paura di diventare qualcun altro, qualche che incontrandolo oggi non gli piacerebbe avere come amico. Che lui sappia, Timoti non ha sorelle, fratelli o veri amici. Prima c'era Isidore, ma non era un gran tesoro. Non era né gentile, né divertente, né intelligente, né generoso, niente di tutto ciò che può contribuire a una bella, profonda e durata amicizia. Fintanto che erano amici, Timoti non si è mai reso conto che Isidore era palloso, per dirla in modo triviale. Ma un anno, tre mesi e cinque giorni fa, di sua libera iniziativa, Isidore ha messo un chewing gum tutto masticato e pavoso nei capelli di Timoti. E poi, durante la ricreazione, ha inferito, mettendoli della senape dentro le tasche dei pantaloni. E ogni volta ha riso brutalmente. E' stato davvero troppo. Timoti ha cominciato a non rivolgere più la parola a Isidore, che ha dato prova di fregarsene. Quindi, Timoti ha deciso di rinunciare definitivamente a lui. E così, facendo al suo unico amico... Timoti, stai ordinando la tua camera, vero? Timoti non risponde. Ha deciso di tenere il muso a Geralt. L'ultima volta che gli ha tenuto il muso, ha battuto il suo record, resistendo per due giorni e mezzo. E' stato dopo una visita allo zio Martlej, un anziano signore, un po' rimbambito, piuttosto brontolone e molto solo. Così, solo che passa le giornate a fare la predica al suo canarino Sissi. Sissi. Si può sapere perché non ha neanche toccato il suo osso di seppia. Lo sa che ci sono migliaia di canarini che non hanno niente da mettere sotto il becco. Non venga poi a lamentarsi con me quando sarà in carenza di calcio. Ah no! No, Sissi. Questa casa non è un albergo. Non soltanto gli parla da mattina a sera, ma in più si aspetta delle risposte che non arrivano mai. Neanche un cip-cip. Sulla strada del ritorno, in macchina, Timothy aveva chiesto a suo padre della loro famiglia. O per la precisione della loro assenza di famiglia. Non può esserci solo lo zio Martlej. Come al solito, Gerald era abilmente riuscito a eludere tutte le domande. Ma suo padre non poteva mica accampare la scusa di essere un canarino. Furioso Timothy si era allora lanciato in uno sciopero della parola. Il papà dice a Timothy, vado a fare la spesa, torno tra un'oretta al massimo. Conta fino a 3600 e vedrai che sarò tornato. Timothy non risponde e ritorna ai suoi pensieri. Non gli ci vuole molto. Il muso, quindi, era durato due giorni e mezzo. E si era interrotto solo quando Yuhuu, prendi questo e questo, drago infernale. Una voce umana sconosciuta. Quella volata lo strappa di nuovo ai suoi pensieri. Viene dal giardino, va alla finestra e giù giù giù, ai piedi della torre, vede una bambina, cioè, da così su su su, non è sicuro al 100% che sia una bambina. Ma le sembra di scorge in una specie di coda di cavallo, piantato in cima alla sua testa, alla testa della sconosciuta. La bambina, con la coda di cavallo, piruetta, torna al tosa erba. Agita un braccio per aria e lancia a grida di battaglia. Timothy afferra il binocolo dallo scaffale e si obbalza quando finisce faccia a faccia con la bambola, ma non può occuparsi di tutte le intruse allo stesso tempo. Priorità a quella che si muove. Il viso della sconosciuta è rosso per lo sforzo e le sopracciglie sono aggrottate e Timothy nota che non porta le scarpe nei calzini. I suoi piedi sono dei piccoli piedi scalzi, bianchi e sporchi. Deve avere più o meno la sua età. Non si muove più, poi si rialza di scatto e riparte l'attacco del povero tosa erba. Immobile, silenzioso e pacifico. Timothy è perplesso, pensa con ansia al suo padre che ha dato in centro. Forse quella bambina ha la rabbia. Se ritornasse contaminato, anche lui, o se lei lo attaccasse. È una malattia che provoca allucinazioni e deliri. Una malattia incurabile, mortale e terribile. Contagiosa. Immagina il suo padre a quattro zampe, con gli occhi innettati di sangue. È la schiuma bianca agli angoli della bocca, pronto a saltargli addosso per mordere la povero papocchio. Timothy lancia un gemito. Il tosa erba è adesso sottosopra, con quattro ruote per aria. La malata di rabbia lancia una risatina breve e senza pietà. Posa un ginocchio sull'erba e tende il braccio sopra il macchinario, come se stesse per dare il colpo di grazia. Ma così facendo, alza la testa verso il cielo. A quanto sembra un segno divino. In quel momento i suoi occhi si incrociano quelli di Timothy. Ehi, oh, tu lassù, gli urla lei. Timothy lancia il binocolo e si nasconde attorcigliandosi nelle pieghe della tenda. Il cuore li inviate così forte in petto che vorrebbe dirgli. Entri, prego, o meglio, esca pure, mio caro cuore. Sa già dove la porta e arrivederci. Ehi, spione, torna fuori! Timothy si finge morto, come si dice, e a poco a poco lo invade un sentimento di vergogna.